Buongiorno, buongiorno a tutti. Come ha detto l'altro giorno Claudio e Visentin, dire cose intelligenti non dipende da me, dirle in modo breve invece sì, anche se condensare 30 anni di libreria in pochi minuti è veramente un'impresa. Comunque io ci tengo a ringraziare anzitutto Giorgio Chiavegato che 30 anni fa ha avuto la romanzia di creare questo spazio e poi Stefano e Lorenzo e 28 anni di unità fra Giorgio e me perché io ho cambiato vita radicalmente 15 anni fa, vita e città, per rilevare questa libreria. E questo miracoloso traguardo è anche così dovuto a tutti quanti voi, ma il grazie di oggi è per Paolo Sacchi che ci sta gestendo dietro le quinte ma con grande efficacia, ma anche e soprattutto al vulcanico Claudio e Visentin, patron e fondatore della Scuola del Viaggio senza il quale questa bella chiacchierata non avrebbe luogo. La Scuola del Viaggio per me vuol dire tante cose, tanti ricordi, tanti amici, in particolare Guido Bosticco, Stefano Faravelli e Andrea Bocconi, con i quali abbiamo condiviso tanti ricordi, spero ne condivideremo ancora, e anche tante presentazioni che forse sono la cosa che più mi manca di questo brutto anno che continua a maledirci. Perché era un modo per condividere temi, amici, libri con tutti voi e speriamo di riprenderlo. Per fortuna c'è l'online, quindi con la Scuola del Viaggio abbiamo dei laboratori in cantiere fra breve, con Stefano il 28 marzo sul carnet di viaggio, con Claudio sulla scrittura di viaggio il 17 aprile, e poi c'è la chicca quest'anno, l'iscrizione alla Scuola è un libro, il libro di Andrea Bocconi, io altrove, edito dei di ciclo, che è il bonus per chi si iscrive alla Scuola. E che dirvi, tutti questi autori in questi anni ci hanno mandato delle clip di auguri che condivideremo con voi nei nostri social nei prossimi giorni e settimane. Ne saluto uno solo, Andrea Semplici, che è sempre stato molto vicino a noi e che non sta passando un gran periodo, quindi forza Andrea. Tornando a noi oggi, fra gli amici che avremo c'è Francesco Rissabat, anzitutto che reduce dalla masterclass di haiku di questa mattina, e il raffinato genere letterario giapponese del quale Francesco è l'autore italiano più bravo e premiato, diremmo, non soltanto. E poi veniamo ai nomi di gran richiamo, indubbiamente, Giuseppe Cederna e Franco Arminio, però se sono qua c'è un motivo, non è una cosa soltanto per fare audience. Giuseppe, attore, scrittore, viaggiatore, l'ho conosciuto in un posto direi sintomatico, cioè la libreria del viaggiatore di Roma, da Bruno Bostin, tanti anni fa, nella mia vecchia vita, quando ero solamente lettore e viaggiatore. Fu molto carino, fin dall'inizio, ricordo che mi annusò e riconobbe il mio profumo, profumo che da trent'anni, quindi fu un approccio molto carino, con un totale sconosciuto, che poi presuntosamente è diventato amico, perché sono diventato a mia volta l'ibraio di viaggi, ho scoperto che c'è una liaison veronese, parentela veronese, che l'ha portato qui abbastanza frequentemente, e quindi condividere con lui questo momento mi rende felice. Oltre al fatto che lui, durante quest'annata di pandemia, ci ha confortato l'anima leggenda, e poi, last but not least, come direbbero quelli bravi, Franco Arminio, che, che dirvi, è autore, poeta, paesologo, forse però è il miglior testimonial di questo passaggio della libreria, dalla vocazione geografica, che ha sempre contraddistinto Gulliver, alla poesia. Perché da qualche anno Franco, che appunto ha sempre stato il cantore in prosa di un'Italia apparentemente minore, da qualche anno ci tocca il cuore con dei volumi splendidi di poesia, uno dei quali, con dedica, è stabilmente sul mio comodino. Questa è la dedica, non si vede, comunque mi tocca il cuore. Che dirvi, lascio la parola a Claudio, vi ringrazio di cuore e vi ricordo, peraltro, che anche in zona rossa la libreria è sempre aperta. Quindi, se potete, volete, veniteci a trovare per non farci passare queste giornate di compleanno in semisolitudine. Grazie a tutti e lunga vita a Gulliver. Benissimo, grazie a te Luigi. Noi siamo tutti qua come una festa di compleanno, veramente a cui manca solo la torta, e io sento molto la mancanza, ma insomma recupereremo. E' proprio una festa della Gulliver, diciamo, forse anche una festa delle piccole librerie indipendenti. Noi lavoriamo con molte altre librerie di viaggio, insomma, penso alle nostre amiche fiorentine o a Pisa, eccetera, eccetera. Vedo che ci sono già molte persone collegate, grazie a chi si è collegato, saluto tutti da Piacenza e da altre località ancora più esotiche. Noi partiamo, diciamo, io sarò un moderatore pochissimo ingombrante, giustamente Luigi ha già presentato tutti, Giuseppe Cederna. Io direi di Giuseppe forse oggi qua teniamo soprattutto ovviamente il grande viaggio, il suo straordinario libro di viaggio del 2004, e anche poi delle cose piccole che lui fa bellissime. Ha fatto un film bellissimo su Chisciotte, con degli studenti, c'è il Ticino per esempio, un suo libro di viaggio che magari vedete meno, le voci del fiume, ma che è bellissima, e poi ci sono, ricordate, questi suoi viaggi in cucina che sta facendo con Alessandra Ferrari alla regia, che sono delle cose preziosi dove l'imposizia ci mette. E poi Franco Armino diceva giustamente, Luigi, io ricordo proprio il momento, si può dire di lui tante cose, ricordo proprio il momento in cui in una cicchiglia assolatissima, con 20.000 gradi, secondo me, non so quanto caldo facesse, ho proprio letto Vento forte tra la Cedona e Candela 2008, lui è stato anche maestro nel nostro summer school, come anche Giuseppe, Giuseppe è venuto la primissima summer school nostra, però ricordo anche poi proprio questo vento forte tra la Cedona e Candela, che fu proprio una voce, si può dire tutto, ma fu proprio una voce che fino a quel momento non c'era. E poi naturalmente Francesco De Sabata, che ha appena finito la sua lezione, che lasciamo magari riposare un attimo, ma lo recupereremo presto, con la suite per Aiku e questi suoi meravigliosi lavori per Aiku. L'Aiku è qualcosa che è entrato nelle nostre scuole stile, ci ha un po' colonizzato lui a noi, sono stati nipponizzati da l'Aiku, ma è stata anche una bellissima esperienza. Io partirei proprio da un'osservazione, cioè a cosa servono le librerie? Qualche tempo fa Luigi se ne venne fuori dicendo ma c'è questo stranissimo libro, che poi io ho recensito per il Domino Italia del Sole 24 Ore, Marco Aldi e Montanari, Cento luoghi diversi, un viaggio in Italia, dove si raccontava il viaggio in versi. Allora, raccontare il viaggio in versi non è così comune. Uno dirà, certo, c'è questo Omero, che è uno bravo, diciamo, che già un 2800 anni fa ha già raccontato il più grande viaggio in versi. Lo sappiamo bene perché l'abbiamo letto con molti di voi insieme a Itaca, però è anche vero che la prosa rimane il modo normale con cui noi raccontiamo un viaggio fino a oggi. E invece questo libro di Marco Aldi e Montanari e diverse altre esperienze mostrano che si può raccontare un luogo attraverso la poesia. Allora la domanda diventa subito che cosa cambia se noi raccontiamo un luogo attraverso la poesia? Cosa cambia la prospettiva? Ovviamente la prima osservazione abbastanza banale può essere raccontare un luogo attraverso la poesia vuol dire ritrarre più che squarci, che spiragli, che immagini, senza quella organicità e quella completezza che di suo appartiene alla prosa. E penso un'osservazione giusta, però è anche un'osservazione abbastanza banale. Per cui magari comincerei proprio a entrare in questo, in questo tema, andare più dentro e chiedendo a entrambi, magari cominciando proprio da Giuseppe Cederna, che cosa la poesia riesce a fare che la prosa non fa? Ciao Giuseppe, intanto. Ciao a tutti. Allora, cercherò di rispondere a questa difficilissima domanda, come è sempre difficile cercare di spiegare quello che noi sentiamo con il nostro corpo, perché a volte le poesie, così come i luoghi, non hanno bisogno di parole, ma è vero, le parole delle poesie, essendo parole scelte, misurate, sintetiche, che vengono da un tempo altro che il tempo del poeta, in qualche modo riescono a farci parlare e a parlarci dei luoghi. Io porto spesso poesie nei miei viaggi, spesso poesie nei luoghi che amo, perché attraverso di esse, attraverso queste poesie, io i luoghi li vedo, i luoghi mi parlano, i luoghi mi fanno respirare meglio, mi fanno stare meglio. Così come porto i poeti, i poeti, vedete, dietro alle mie spalle, non è casuale, ci sono sempre, ma oggi vorrei che li vedeste bene. Alle mie spalle ho due diverse poesie, ho una poesia, è una faccia bellissima, da vecchio marinaio, è un americano, è un americano monaco laico, è Robert Lacks, compagno di Merton, del grande Monaco Merton, compagno di, sì, di Accadema, di Columbia University, che poi si è trasferito per anni a scrivere poesie, vedete come scrive delle poesie spezzando le parole, e questo viveva nelle isole dell'Egeo, quindi la presenza di un poeta in una cucina, per esempio, rende diversa questa cucina, ti ricorda l'importanza della sintesi, della lentezza, del pensiero, del fermarsi, dell'ascolto, della musica, le poesie hanno una musica naturalmente, che i luoghi passano attraverso la poesia, e alle mie spalle invece c'è un quadro di Eric Xenox, che è un poeta, artista, non è un poeta, è un pittore, che vive ad Atene, e quindi il Mediterraneo attraverso di questo, domani, ultimo giorno prima del lockdown a Roma, andiamo a fare un rito proprio poetico in un luogo speciale, nel 9 o 10 marzo del 2020, ancora forse non sapevamo, forse lo sapevamo, non mi ricordo, che due giorni dopo ci saremmo rimasti chiusi un mese, forse anche due mesi a Roma, eravamo andati sulla cima del Monte Soratte con questo libricino, Ode al Monte Soratte di Claudio Damiani, un grande amico da allora diventato, non possiamo, e grazie a questo libro il Monte Soratte, anche quando non siamo sul Monte Soratte, il Monte Soratte è qua, nella mia cucina, nella mia casa, nella mia camera da letto, domani, vediamo se ci riusciamo, chiudiamo un cerchio per riaprirne un altro e torniamo sul Monte Soratte con questo libro, forse addirittura con Claudio Damiani e leggeremo sulla cima del Monte Soratte queste poesie per vedere se il Monte Soratte ci porterà bene o comunque ci accompagnerà in questo prossimo lockdown. Giuseppe, scusate, io non ho parlato di luoghi, di montagna, di poesie e di poeti. Giuseppe, è interessantissima questa cosa, ma tu quindi vai in giro con dei peccettini di carta in tasca e poi li tiri fuori e le leggi e le leggi niente cosa dici di te. Certo, ma certo, guarda, io adesso qua qua davanti a me ho i libri perché mi sono preparato perché sono a casa, ma nei viaggi, nei viaggi lontani vai che vai nelle isole, vai che vai nel deserto. L'altro anno ho avuto la fortuna di andare in Giordania, pensate, a gennaio. Chi lo sapeva che dopo sarebbe tutto chiuso il mondo così e sono andato nel deserto della Giordania che è il Wadiram o Wadirum meraviglioso, uno dei pochi deserti vicini dove si può ancora andare e dormire sotto le stelle se uno può. E mi sono portato, vedete, questa è una poesia di Vivian Lamarck che poi vi leggerò perché volevo dirvi, noi siamo solo uomini, ce ne rendiamo conto e allora io, vabbè, non posso trasformarmi in una ragazza purtroppo, ma ho qua molte poesie da leggervi, tre, quattro, tre o quattro poesie da leggere a voi e da leggere anche a Franco Arminio perché ci tengo di avere un rapporto diretto con lui attraverso le poesie. Allora passiamo subito a Franco a questo punto che così poi la stessa domanda potevo fare un po' a te. Tu scrivi in una tua poesia molto bella che ho qui davanti a me un pensiero che viene in un bosco è diverso da un pensiero che viene in ascensore che proprio sia molto bello. Cioè, e quindi anche tu, tu hai scritto sia poesia che prosa, quando è che scegli l'una o l'altra? te vai in un posto e dici una poesia oppure un capitolo di un libro. Dov'è la differenza? Ma intanto io penso che ci possono essere dei pezzi in prosa sui luoghi che in realtà sono molto poetici e ci possono essere dei pezzi scritti in versi che in realtà possono magari meno poetici. Quindi la differenza tra poesia e prosa è un po' così, non è così netta come spesso si pensa. In ogni caso uno va in un luogo con il corpo, si fa attraversare il luogo con il corpo e si fa attraversare dal luogo. Cioè il luogo passa nel tuo corpo. Torni a casa, ti metti a scolare a testa in giù e quello che scende sulla pagina è un po' il resoconto del luogo. A volte appunto magari per un qualche motivo puoi decidere di farlo in versi perché ci sono solo alcune immagini particolari che puoi fissare altre volte puoi fare un discorso più lungo più organico come dicevi tu e lo affidi alla prosa però poi magari all'interno di quella prosa c'è una scintilla poetica che magari non c'è nella poesia. Quindi tu racconti in una tua poesia molto bella che vorrei che leggessi tu magari perché le persone che ci ascoltano sono tuoi lettori anche di poesia racconti un viaggio frustrato frustrante a Marradi cercando Dino Campana. Ora se ci leggi magari questi versi e poi ti dici perché Dino Campana non l'hai trovato là dove si supponeva che avesse il domicilio insomma quindi non era non era il locale a Marradi che ne è di lui. Ok allora Cerco le terre del poeta Infilo ogni tanto qualche paese fermo sigillato nella sua tristezza Arrivo a Marradi dove puoi trovare tutto ma non Dino Campana Leggo una sua poesia Sento l'anima che mi piove addosso ed è un rumore che non si ferma mai Beh ero andato a vedere questo paese perché appunto volevo vedere il paese di Campana ma Campana non c'era ovviamente non solo perché è morto ma proprio perché nell'aria non c'è niente che facesse in qualche modo pensare a lui ci sono dei posti per esempio a Liano dove vai adesso e in qualche modo la descrizione del paese che fa Carlo Levi in qualche modo è ancora lì no? Cioè Carlo Levi è seppellito ma in alcune facce in alcuni muri senti ancora quella vicenda raccontata nel suo libro e a Marradi questa cosa non c'è Senti e qualcosa che ti capita ogni tanto Franco per esempio leggevo anche volevo che tu leggessi per esempio questo viaggio di nuovo frustrante allora sei un poeta un po' triste sicuramente questo diciamolo senza falsa senza falsa timidezza sei un poeta un po' triste è uno dei nostri obiettivi di questa festa uno dei più tristi della Gulliver è di rallegrarti e fare che in futuro tu scrivi a morti scherzosi e carole e altre cose di questo tipo però sei anche stato sul delta del povere che tu leggessi anche questo passaggio cercando in fondo l'immagine che aveva visto Gianni Celati e non le hai trovate e c'è un verso bellissimo dice c'è in questo momento in questo mondo in cui particolarmente viviamo c'è una grande gomma che cancella i luoghi magari poi ci dici qualcosa anche di questa grande gomma mi rego la poesia? ok ok il delta del po' non è più come lo descrive Gianni Celati in pochi anni hanno provato a nascondere ciò che sembrava vecchio trascurato la grande gomma che cancella i luoghi è arrivata anche qui inutile indugiare più di tanto meglio prendere un caffè con le anguille e ripartire si sentiva? la grande gomma che cos'è? si questa non so se è un'immagine che usa anche Gianni comunque vedendo un suo film appunto in cui c'era un po' lui raccontava un po' un pezzo di nord che non somigliava al nord appunto produttivo diciamo animoso vertiginoso un nord un po' lento appattato anche un po' dismesso in alcuni pezzi e in tipo io sono arrivato lì 10, 15, 20 anni dopo e questo nord che aveva raccontato lui non c'era più appunto la grande gomma possiamo chiamare della modernizzazione del cancellare le tracce del passato era passata anche di lì e producendo però per me almeno un impoverimento del luogo cioè paradossalmente il luogo raccontato da Celati era più bello queste case ridipinte risistemate le rotonde questa diciamo questa cosa di arredo urbano come si chiama adesso aveva normalizzato in qualche modo il teatro del Po e quindi ai miei occhi almeno lo aveva reso meno intenso magari più funzionale per chi ci abita ogni giorno attenzione ma per uno che va a cercare il salto per uno che va a cercare l'intensità a me era sembrato un luogo più povero io ricordo in tutta Italia di vedere questi luoghi ricordo ricordo anche la campagna che lanciò Michele Serra che è un altro amico della scuola di viaggio contro le rotonde le rotonde diceva sono nemiche dell'umanità perché tu esci un pochino un pochino prima un pochino dopo di quello che dovresti ti trovi in posti lontanissimi e sperduti per cui diceva sono una fonte una fonte di viatture e su questo magari ripasserei un secondo su Giuseppe perché a parte che ovviamente questo tema tutti conosciamo il delta del po laddove Giuseppe il parco finisce comincia diciamolo senza timidezza gli amici venetici abbiano chi vogliano bene lo stesso laddove il parco del po finisce del delta del po finisce comincia la bruttura dei capannoni delle rotonde oggi tra l'altro anche semi abbandonati perché è anche un modello che ha fatto a suo tempo e questo naturalmente ricordiamo ha a che fare anche molto con la tua famiglia con il mio padre se non sbaglio c'è un anniversario anche importante e lui di capannoni e rotonde diciamo qualcosa ne capiva ecco giusto? è un anniversario se non sbaglio aspetta eccomi sì quest'anno sono cento anni dalla nascita di Antonio Cederma mio padre mi fa piacere ricordarlo qui per tanti motivi primo perché a Verona c'è la libreria Gulliver e Gulliver i viaggi di Gulliver di Jonathan Swift era uno dei libri di Comodino che aveva mio padre sul Comodino insomma lo conosceva non dico a memoria ma il famoso discorso dei cavalli il disgusto dei cavalli che Gulliver rispetto al genere umano era era un pezzo suo di grande e poi anche perché a Verona c'è Giulia Valerio la mia grande cugina e quindi mi fa piacere essere qua ricordarlo in compagnia con voi con Gulliver con tanti amici che ci sono che abbiamo nominato tra Bocconi Faravelli ma anche Andrea Semplici e poi dunque volevo dire una cosa io vorrei leggere una poesia anch'io e vorrei leggere una poesia che parla di un luogo che noi viaggiatori o tutti insomma non noi viaggiatori poi scusate noi non siamo viaggiatori diciamo la verità siamo turisti diciamoci la verità dai questa pippa che siamo chi viaggiatori noi siamo tutti turisti più o meno ben disposti più o meno simpatici più o meno gentili più o meno leggeri ma i veri viaggiatori vogliamo ripeterlo ancora una volta chi sono dove sono sono alla frontiera con la Bosnia dietro il filo spinato che muoiono di freddo in un inverno tremendo tra pandemia chiusura botte paure insomma questo è quello volevo dire ma il luogo di cui volevo leggervi la poesia di una donna perché siamo sempre uomini io leggo una poesia di Candra Livia Candiani così come dopo vi leggerò una poesia di Vivian Lamar che questa poesia parla di un luogo che è il nostro corpo anche più luogo di quello e parla dei piedi allora io vorrei celebrare i piedi che tanti giorni fa tanti anni fa mi portarono a incontrare Franco Arminio in un paese nebbioso del Gargano e oggi invece mi portano da voi con i piedi fermi sotto la tavola ma in poesia li facciamo muovere i piedi di Candra Livia Candiani dicono così i piedi hanno un grande arco per disegnare il bordo del mondo seguono le tracce dell'invisibile lo disegnano si stanno sempre avvicinando pensano lo spazio è zeppo di possibilità che tu dorma o sia sveglio fermo o in movimento l'aria ha le ruote e i piedi ne seguono i profili lasciando la terra ritrovando la terra non domandarti mai dove vai solo fallo bene questa poesia mi sembra che risuoni molto con alcune poesie di Franco Arminio sul compito che abbiamo di fare delle cose fatte bene e di a volte di piantare il bene nelle facce degli amici della gente delle persone che amiamo e quindi volevo dedicarla a noi ma soprattutto anche a Franco ciao Franco ecco tra l'altro hai accennato al modo in cui vi siete conosciuti dove vi siete conosciuti voi due io ci ho pensato tanto però Franco Arminio è diventato molto conosciuto pur essendo sempre ritirato non l'ho più rivisto chi vedo oggi ma non importa perché io ti leggo e noi ci possiamo seguire attraverso io ti ho incontrato Franco e poi vorrei vedere se questo incontro è avvenuto davvero o me lo sono sognato c'era un paese era sera piccole strade con scale in salita e in discesa naturalmente perché la salita puoi vederla da una parte o dall'altra c'era un odore di legna nell'aria mi hanno detto c'è un festival un festival sì un paese così piccolo nel Gargano in montagna sì e c'è un poeta che sta leggendo Franco Arminio ho aperto una porticina si è aperta una stanzetta con 30 persone 20 persone sedute c'era un poeta che leggeva le poesie e con la faccia un po' burbera mi ha guardato come dire che cosa vuoi tu qua e non sapevo se dovevo andarmene via o rimanere ma poi come parlano i poeti che sembrano burberi ma forse non lo sono e mi ha fatto un cendo come per dire ho capito mettiti qua se non c'è una sedia mettiti lì ascolta e sono rimasto fino alla fine giusto Franco questo è quello che mi ricordo un'accoglienza in poesia con poche parole tu che ti ricordi ah sì sì ero contento di vederti mi ricordo che ogni volta che vado a Monte Sant'Angelo è diverso ci pensavo proprio ieri un paese bellissimo lì ho preso freddo fresco sono sudato ho incontrato persone note come te ignote pellegrini sono dei posti in cui si torna ecco per me è bellissimo Monte Sant'Angelo però non mica ho capito perché così un po' come le persone un po' come i luoghi ci possono stare simpatiche in realtà non si capisce perché poi quando ce lo chiedono noi proviamo a dire qualcosa no? ma in realtà non si sa è un po' è un po' un mistero e magari poi arrivi a Monte Sant'Angelo la prossima volta e ti scocci e trovi appunto che la gomma ha cancellato anche lì qualcosa no? quindi cioè io mi ricordo il fatto che che lì ogni volta è diverso non ti sei cioè tu vai in un posto e più o meno è sempre uguale a Monte Sant'Angelo tipo deprimere esaltare intristire è strano io ogni tanto ripenso ai luoghi che effetto mi fanno ecco questa è una domanda tutti dovremmo un po' chiederci di più i luoghi che effetto ci fanno cioè noi andiamo nei posti per fare delle cose invece dovremmo andare nei posti proprio per incontrare il posto per parlare con il posto per capire che cosa ci dice il posto invece siamo preoccupati più di quello che andiamo a fare no? e come il posto fosse semplicemente una diciamo così un cartone un contenitore e invece il posto è la creatura secondo me con cui con cui dialogare quindi non so anche se succede a me però a me succede che molte cose me le scordo e questo è un grande dolore cioè andare in paesi e capire che dopo anni un po' ti scordi tanto è una è una grande tristezza perché perché dobbiamo dimenticare tanti dettagli tante cose che abbiamo visto no? tanti e però questo sembra che il nostro cervello non ce la fa a conservare posso dire una cosa? prego quello che stai dicendo è proprio quello che diceva anche questi grandi a proposito del viaggio no? Saramago c'è un pezzo alla fine del suo viaggio in Portogallo dove gli dice il viaggio solo il viaggiatore finisce il viaggio non finisce mai bisogna tornare nei posti tornare tornarci quando piove tornarci quando c'è il sole vedere quello che non si è visto la prima volta rimettere i piedi sui passi già dati e a me questo mi ha sempre confermato il fatto che a me a me piace tornare nei luoghi proprio perché ogni volta sono diversi e ogni volta c'è una sorpresa non solo perché magari hai instaurato un'amicizia con un barista con un venditore di una cosa con un amico e quindi vuoi continuare a approfondire il rapporto ma proprio il rapporto con il luogo è diverso perché ogni volta vedi senti qualcosa di diverso perché tu sei diverso anche e quindi il luogo ti parla anche di te ovviamente e ti parla anche che quello che dicevi te è la cosa terribile della dimenticanza no? allora cosa facciamo noi che giriamo col taccuino? Sembriamo un po' quel patetico personaggio del gabbiano che c'è un personaggio del gabbiano dice ecco che va in giro un professore si segna tutto per non dimenticarsi naturalmente io me ne frego io vado sempre giro col taccuino e mi segno tutto per non dimenticare a volte a volte me lo dimentico lo stesso però quando apro il taccuino qualche volta qualcosa mi torna come se un odore una luce se io avessi scritto adesso quell'incontro che è più simile a un sogno quella porticina che si apre guarda che è un sogno entri in un villaggio deserto entri si apre una porta e dentro c'è un piccolo teatro con un poeta che legge le poesie di sera in un paese dimenticato dal mondo e che fa questa specie di piccolo insomma tu eri un po' come nel pugno eri un po' come una luce e allora se io avessi scritto quella cosa lì forse avrei scritto ci sono si è voltato uno in terza fila e mi ha guardato mi ha colpito perché quella era una bella donna e lui la guardava e leggeva le poesie a lei perché era una bella donna e sono sicuro che lui stava cioè magari capito c'erano queste cose qua o come è rivestito o l'odore che c'era in quella sala però non l'ho scritto e quindi la Giuseppe poi tra l'altro mi hai ricordato questa immagine mi ha veramente ricordato ricordiamoci anche diciamolo stamattina cioè che fatica oggi oggi Franco appunto è un poeta conosciuto però per parecchio tempo è stata una figura che si faceva molto fatica a collocare quest'unico paesologo italiano che si era inventato una disciplina e ci si era infilato dentro e per molto tempo è stato un personaggio stravagante e devo dire io forse il coraggio che hai avuto anche Franco cioè da solo senza preoccuparsi dei riscontri di andare avanti per la tua strada fino a quando poi diciamo sei stato compreso e oggi e oggi diciamo sei pienamente apprezzato tutto quello che state dicendo però secondo me Franco si lega con la tua poesia che dice per prima cosa attenzione al luogo io ti chiederei allora perché qua veramente no c'è il senso intanto segnalo anche che sulla chat stanno passando delle cose bellissime le ringrazio tutte vedo Gloria in questa vedo Barbara che giustamente parlava dell'odore di legna nei paesi di autunno è già una poesia anche questa allora Franco ce l'hai? aspetta un attimo sì sì ce l'ho ce l'ho ok la leggo perché molte volte andiamo in un posto ma in realtà è come che non ci fossimo che non fossimo lì allora vai ok la leggo leggo la parte iniziale e la parte finale che fa così per prima cosa attenzione al luogo un pensiero che viene in un bosco è diverso da un pensiero che viene in ascensore capire che la questione non è farsi spazio nel mondo ma sentire lo spirito che c'è in ogni spazio senti adesso Exorma mi piace tantissimo avrei tenuto anche un verso Franco dove dici disertare le chiacchiere quanto più è possibile che è un bellissimo monito a tutti noi e lì è uscito da poco un libro di Exorma bello già che parliamo di libri e di poesia dove si riprende questa idea del genius lofty è un'idea molto antica gli antichi andavano in un posto e sentivano che ditta un genio del quale noi ci siamo completamente dimenticato tu lo senti ancora quando vai nei paesi è un genio di foghi allora è una cosa che è tutto soggettiva a me emozionano moltissimo i paesi cosiddetti morti che poi morti non sono perché sono semplicemente paesi senza esseri umani ma ci sono le bisce le farfalle gli alberi eccetera quindi sento diciamo con grande forza sento quasi il sacro nei paesi abbandonati quindi per me Rogudi nella Spromonte Craco in Lucania Roscigno in Campania e tanti altri sono i posti diciamo in cui sento di più la vita paradossalmente anche ieri al mio paese siamo andati con degli amici in alcune case abbandonate in cui sono rimasti gli oggetti che c'erano negli anni settanta ecco sono tornato a casa con una certa emozione se vai in una casa invece diciamo in funzione con dei cittadini con dei mobili contemporanei con la tv accesa e quant'altro lì così un po' tende a salire la noia ecco questa è non è un giudizio diciamo così è proprio una sensazione del mio corpo cioè il sacro affiora dove gli esseri umani sono andati via tra l'altro Ferraguti ha scritto un libro molto bello sui paesi abbandonati e quindi se un giorno è andata in cucina e c'è Franco Arminia perché pensava che fosse una casa abbandonata e c'è entrato dentro invece era quella volta può succedere un bel avvenimento vorrei tornare un secondo a Giuseppe poi voglio farti leggere però un'altra poesia tua Franco voglio tornare però un secondo a Giuseppe per questo pensavo Giuseppe anche ai tuoi viaggi in cucina ma anche proprio al modo in cui tu usi le poesie degli altri cioè è come che tu ne fossi come un funambolo prendi un verso allora ti direi proprio che uso fai della poesia nella tua vita tu sei più prosatore o autore di teatro che poeta in senso stretto però sei costantemente circondato da poeti domanda perché dovremmo circondarti costantemente di poeti come sei tu convincici beh innanzitutto ragazzi io sono un funambolo guardate qua Guido io mi sto allenando da giorni a giocare con queste pallottoline così come gioco con le poesie io ho cominciato come clown ragazzi adesso voi pensate che io sia una persona seria ma non lo sono e mi sono circondato di poeti lentamente come mi sono circondato di viaggio sempre di più perché i poeti e le poesie ti aiutano a vivere meglio insomma ti aiutano quando sono rimasto chiuso in questo tremendo lockdown l'anno scorso la mia compagna mi ha detto guarda il teatro l'hai perso il pubblico l'hai perso ti aggiri per casa fumando come un'anima persa ti piace ti piace portare in viaggio le poesie perché quello che dicevamo prima io prendo una poesia così fotocopiata la piego la piego in quattro non si rovina la poesia perché poi tu la metti in tasca e poi te la leggi dall'altra parte del mondo o sotto casa lo stesso anche la piazza fa bene ma insomma quindi viaggia viaggia in cucina con le tue poesie preparati un raccontino breve di due minuti tre minuti massimo e leggi le poesie e dalle dalle prime favole al telefono di Rodari per i miei nipoti così siamo passati alle poesie di tutto il mondo soprattutto italiane nella nostra cucina mentre si preparava la sera qualcosa da mangiare e questo poesia salvaci tu viaggia in cucina creato da Alessandra e girato da lei e poi montato con un po' di musica mi ha aiutato a mantenere un rapporto prima di tutto con me con la mia piacere perché quando tu dici se io leggo io ho letto per esempio una poesia di Franco Arminio bellissima dal libro c'è di la strada agli alberi che già il titolo è una poesia e l'ho letta nella casa di mio cugino in Sardegna Franco eravamo fuori dal lockdown era giugno sì era giugno siamo andati a trovarlo perché capita vedi capita nelle cose della vita che il padre della mia compagna sia il mio cugino prima guarda che succede siamo una storia di una storia particolare beh siamo andati a trovarlo e la sua cucina era piccola ma piena di sole con fuori dei fiori mediterranei sardi bellissimi e io ho detto oggi dobbiamo leggere me l'ero comprato ci avevamo pensato in questa cucina con il pane sardo non solo quello piatto non il pane gutiao e il pane carasau ma era proprio un bel pane profumato poi c'era il granito perché poi leggendo queste poesie bisogna mettere insieme no? pane granito pietra fiori tutto quanto c'è di la strada agli alberi e anche quello è diventato un viaggio in cucina per cui caro Claudio caro Franco i poeti i poeti e le poesie sono dei luoghi che ti aiutano che ti fanno viaggiare e ti tengono compagnia anche nei momenti non solo se tu sei innamorato o leggi una poesia di amore giusto? alla tua compagna o cerchi di convincere qualcuno se sei triste o sei solo una poesia è un buon amico in realtà Giuseppe in realtà Giuseppe secondo me è la cosa più interessante per chi sta ascoltando io segnalo tra l'altro i commenti in chat sono interessantissimi ci sono tantissime persone collegate e questo va in onore di Luigi ne siamo molto felici e i commenti sono veramente interessanti a volte come i vostri questi interventi in realtà nella vita quotidiana c'è spesso una separazione la poesia è una cosa un po' da poete una cosa che fai a scuola no 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 la poesia deve diventare no 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 sia una specie di medicina un balsamo che mette ogni tanto no è un nutrimento dimostratilo non so io penso al ruolo che Stevenson ha avuto nel suo rapporto ovviamente volevi leggere una cosa di suo o pensare una cosa di lui? no volevo leggere una poesia di Claudio Damiani che tra l'altro so che è essere anche una persona affettuosamente amica anche di Franco vero? certo e anche amico di una persona e allora lo voglio salutare che io domani spero di andare con lui sul Sorate con questo libretto ma ve ne leggo una senti come è semplice questa poesia di Franco di Claudio scusa Franco di Franco Damiani Arminio Claudio senti qua cara poesia se tu vuoi venire vieni ma se non vuoi venire non vieni fa come fossi a casa tua con me devi fare così solo non posso io non venire qui monte siamo sul monte Sorate e non posso non ammirare le tue spalle e non posso non respirare qui la tua aria che mi nutre senza la quale non potrei vivere non posso non respirare i tuoi colori che ti circondano come vestiti sempre diversi e sentire l'odore delle piante della terra della tua terra e con la mano sentire calda la tua pietra come la testa di un bimbo ragazzi se questa non è la poesia che ha raccontato in maniera semplice la testa di calcare di un monte vicino a Roma che poeta ed è quello che dicevi te Franco che dicono i grandi poeti viaggiatori tu hai detto una cosa bellissima perché poi qua stiamo parlando sempre di quella cosa che ci collega tutti siamo tutti collegati quando sentiamo i luoghi le poesie la voce del mondo tu hai detto che il luogo i luoghi entrano nel corpo e ne hai parlato come di un'acqua come di un liquido che entra e che poi però purtroppo scorre via voi andate a leggervi le ultime pagine del uno dei libri più belli di viaggio se non lo conosci Franco prendi lo si chiama è un libro degli anni 50 la polvere del mondo sarebbe in inglese ancora più in francese più bello è l'usage du monde cioè il consumo del mondo va bene la polvere del mondo è un viaggio in topolino di un poco più che ventenne Nicolas Bouvier che da Belgrado forse lo conosci da Belgrado arriva fino in India quasi in India in topolino dovevano avevano soldi per due mesi dovevano andare nei Balcani rimangono fermi ed è un viaggio straordinario alla fine alla fine c'è la mezza pagina forse più bella e più poetica in prosa in cui lui dice in quel giorno lui è sulla frontiera sotto una montagna di 4.000 metri sulla frontiera tra Pakistan e Afghanistan e dice in quel giorno io avevo veramente pensato di capire qualcosa attraverso il viaggio le cose e dice come un'acqua il mondo entra di noi ci presta i suoi colori e poi se ne va via ci lascia lasciandoci soli con quell'insufficienza dell'anima che adesso non me lo ricordo bene ci lascia soli con quell'insufficienza dell'anima che è qualcosa che ci spaventa ma che con cui combatteremo tutta la vita ma che paradossalmente è il nostro motore che ci tiene in vita cioè cercare di combattere con questo vuoto con questo essere riempiti dalla vita dalle cose meravigliose anche dai dolori e poi rimanere da soli e come tu dici sgocciolare e quindi te lo volevo dire perché vedi hai detto una cosa una delle cose più belle lo hai detto con la tua storia con la tua voce con la tua barba e 50 anni fa 70 anni fa Nicolas Bouvier aveva pensato in una frontiera lontana questa cosa così simile quindi è molto bello che i poeti e le persone sensibili in generale siano così collegate no? infatti non l'ho letto questo libro l'ho letto un'altra cosa di Bouvier insomma grazie grazie a te ve lo mostro questo eccolo qua è un libro ovviamente fondamentale è uno dei libri che scoppi nelle librerie di viaggio perché sennò difficilmente qualcuno ti dice appunto leggi la polvere del mondo è Montegno ovviamente lui sarà sul mondo di Bouvier forse lo rileggo io Giuseppe tanto noi qua non è che abbiamo da fare un programma perché è veramente straordinario dice quel giorno veramente ho creduto ad afferrare qualcosa e che la mia vita davvero ne sarebbe stata cambiata come l'acqua il mondo filtra attraverso di noi ci scorre addosso e per un certo tempo ci presta i suoi colori poi si ritira e ci rimette davanti al vuoto che ognuno porta in sé davanti a quella specie di insufficienza centrale dell'anima che in ogni modo bisogna imparare a costitare e combattere e che è paradossalmente il più sicuro dei nostri motori come dire state attenti perché un giorno nella vostra vita scoprirete che c'è un vuoto e la poesia sarà come una sorta di barriera per contenere quel vuoto lo trovo veramente bellissimo questo lo dice anche Gelati questo del buco centrale che portiamo dentro secondo me i viaggiatori sono forse particolarmente sensibili a questo a questo buco che poi non si riempie mai ma in fondo la tua poetica la tua poetica è che noi forse mi sembra di dire noi spesso cerchiamo luoghi belli allegri divertenti ma ci sono luoghi interessanti tanto un paese triste può essere interessante e in fondo quello che ci interessa è che tu parli non siamo lì per farci solo divertire credo volevo chiederti anche di leggere una cosa tua mi ha molto incuriosito quella tua poesia di Aliano che definirei è un po' che delica poi ti dici prima leggila poi ti chiedo e che sostanza te l'hanno fatta vedere su Aliano ne ho scritte tante questo è un frammento che dice così Aliano è un'isola in un mare di argilla di notte si vedono assai bene le navi le barche in mezzo al mare perché erano queste luci lontane delle contrade che si vedevano appunto da Aliano che pensa è un paese che ha la città più vicina a 100 km in Italia è rarissimo che un paese abbia una città vicina così lontana vogliamo dire quando i morbi non impattano fai un festival ogni anno si a Lune Galanchi è un paese dove ho scoperto la beatitudine della desolazione la bellezza del luogo inoperoso questi Galanchi che anche Carlo Levi descriveva come orridi perché appunto non si poteva produrre nulla e in realtà per me sono posti belli dove si possono avere una nuova funzione ospitare appunto canti letture quindi in qualche modo mi piace dare una nuova sacralità ai luoghi quindi tra te e Bouvier potremmo dire fidate l'idea che la tristezza bisogna costeggiarla non fuggirla sì anche perché chi ci sta lì c'è il silenzio chi lo vive ogni giorno è doloroso chi lo attraversa per qualche ora può essere appunto riposante tonificante quindi magari vivere ad aliano ogni giorno è faticoso perché non ci sono i servizi eccetera però arrivare lì e sentire quell'altrove nei confini nazionali è straordinario ti dà quel senso di intensità che non trovi a Pisa a Macerata a Rovico a Ravellino insomma questo questo capita a me spero intanto di aver migliorato il mio microfono grazie a chi mi l'ha segnalato spero che mi sentiate meglio adesso e volevo chiederti se ci leggi come ultima poesia stiamo già andando verso la conclusione in fondo ma se ci leggi andare in un paese è come andare a teatro che trovo sia proprio meravigliosa una sintesi per la tua poema ok andare in un paese è come andare a teatro un teatro a cielo aperto la recita muta dei muri dei lampioni il canto delle porte chiuse con lo sguardo dei vecchi con le parole che nessuno ascolta è un gatto che attraversa la strada una macchina parcheggiata le cose singole e spaiate che si impongono all'attenzione perché non sai che fare perché non puoi stordirti con la patina dell'eccezionale benissimo questa idea appunto di una poetica di cose minori che minori non sono volevo tornare un'ultima volta su Giuseppe e poi volevo anche lasciare far entrare in questo discorso anche De Sabata il nostro terzo poeta che è rimasto a meditare allora Giuseppe leggici un'altra cosa bella senza troppe spiegazioni cioè senza dire sì ve la leggo senza spiegazioni ma volevo dire che cosa mi ha fatto pensare l'ultima poesia di Franco Franco sai cos'è quando hai parlato alle voci delle porte i vele sguardi dei vecchi una macchina ferma così improvvisamente ho visto un vicolo dell'isola dove abbiamo girato Mediterraneo quest'isola che naturalmente sono passati 30 anni quest'anno dal film e ogni volta che ci vado io torno in certe stradine che ho visto per la prima volta dei vicoli immaginati ancora sono abbandonate e naturalmente sono dei vicoli dove abbiamo girato delle scene 30 anni fa e tuttora non lo so mi ha fatto pensare questo senso che ogni volta rivedo le scene girate passate ma vedo anche il presente e me tornare mi fa uno strano effetto quelle tue parole che riguardano qualcosa di diverso mi hanno portato improvvisamente proprio in un vicolo preciso va bene grazie anche questo mi ha fatto fare un viaggio vi leggo un inedito una poesia inedita di Vivian Lamarck poetessa straordinaria di Milano e dal nome invece meravigliosamente non solo italiano e si chiama I nomi degli amanti sentite che meraviglia ve la leggo come come regalo perché diventerà il prossimo viaggio in cucina I nomi degli amanti dice così confondere i bei nomi degli amanti pronunciarli al momento giusto con il nome sbagliato chiedo perdono all'olmo quando lo chiamo faggio e al frassino quando lo chiamo acacia quanto si offese il carpino quando non lo riconobbi a voltarsi di là omiliato l'aiutò il vento mi perdoni l'arice che ho chiamato abete e l'abete che l'ho chiamato pino alle conifere chiedo tutte scusa e perdono chiedo ai fidanzati tutti dimenticati no i loro nomi ho ancora dentro bene incisi ma come per nebbia confondo un poco rami mani colore delle foglie dei capelli oh presto saremo boschi tutti quanti insieme avremo cuori d'erba di radici orfei ed euridici indietro volti non ti vedremo mai più luce del sole saremo presto boschi tutti quanti insieme da una vita passeremo a un'altra dove come privi dell'azzurro della neve privi dell'amore nelle vene oh Vivian Lamarck la poesia vince la morte ragazzi vince la morte grazie bellissimo Giuseppe io volevo passare un secondo siamo veramente già in conclusione ma a Francesco Francesco tu sei stamattina abbiamo sentito grandi passioni scatenate la tristezza la meraviglia l'amore gli amanti e tu invece sei un poeta e un poeta acclamato a tua volta ma un poeta che ascolta voci più sottili allora che tipo di ascolto è quello dell'aico rispetto a questa poesia di campagna questa poesia così gloriosa diciamo che poesia è la tua che tipo di ascolto politico è buongiorno a tutti rispondo brevemente Claudio come ho detto prima più dilungandomi nella masterclass lo haiku si nutre e si alimenta degli stimoli se vuoi quotidiani più insignificanti al primo al primo sguardo cioè quelli che vengono da una visione periferica che però è anche un'attenzione meticolosa a tutto quello che ci circonda non solo allo spunto per la grande emozione all'arcobaleno che rompe le nuvole per intendersi ma anche al fatto che un filo d'erba abbia resistito alla pioggia e al temporale e magari se guardi sotto quel filo d'erba vedi che c'è una formica che è riuscita a salvarsi anche fuori dal formicaio ecco questo tipo di impressioni sono forse quelle che sono più feconde per la scrittura haiku e quindi saltando anche da un continente all'altro nel senso c'è anche in fondo l'haiku una poesia profondamente giapponese diciamo così nella forma nei modi nel contesto e però diciamo la poesia ha questa capacità di cambiare contesto con facilità beh siamo tutti passeggeri naviganti sulla stessa barca prendiamo il meglio che c'è in giro dal giappone come dalla francia come dall'italia per aiutarsi in questo cammino non lo darei ormai dopo quattro secoli di sviluppi l'haiku come una forma solo esclusivamente giapponese è uno strumento di più è uno strumento di più per affrontare il quotidiano diciamo nella maniera migliore benissimo io credo lascio un'ultima battuta facciamo così magari un'ultima battuta a Giuseppe e a Franco a tutti voi tre così vi ringraziamo di essere qua oggi e poi magari un saluto finale di Luigi che potrebbe riprendere la parola e concludere molti già hanno mandato saluti e affetto dice Maria Teresa dice bellissimi viaggi in cucina per esempio che meraviglia questa poesia degli amanti ecco e quindi tacciamo poi per Franco dice noi creiamo un paese in internet eccetera eccetera e quindi insomma molte dice la poesia Veronica la poesia mi ha salvato in questi mesi quella di Franco Arminio e proprio di Candra Candiani e della Zimbosca quindi insomma è stato molto i commenti da solo meritano molto li cito rapidamente ma sono veramente molto belli un'ultima battuta allora Franco Giuseppe e poi Luigi a concludere ma io vi faccio un invito appena finisce la clausura andate nei paesi dove non va nessuno andate a fare quello che chiamo turismo della clemenza cioè andate a parlare con i vecchi anzi ad ascoltare basta una domanda com'è e partire la storia anche perché gli altri potranno andare in giro al mare all'estero i vecchi resteranno nei paesi dove stanno appunto da soli quindi secondo me è un bellissimo gesto andare ad ascoltare i vecchi perfetto Giuseppe io io guarda veramente stamattina mi sento come se avessi fatto una colazione meravigliosa sono grato di questa ora passata insieme e ho letto adesso qui sono riuscito a leggere un'aico meravigliosa che hai scritto e che voglio leggervi a voi perché appunto io di quello che so del poco che so degli aico che conosco da quasi 30 anni perché una volta andando nel deserto il nostro maestro di viaggi nel 91 ci parlò degli aico e noi ci dilettavamo provavamo a scrivere aiutati dalla bellezza di un tramonto in mezzo alle sabbie dell'Algeria ma era un deserto vero in fondo in fondo in fondo provavamo a scrivere aico ma venivano tutti bocciati invece questo ve lo leggo perché lo ha scritto un maestro che è tra noi che ringrazio per questa meraviglia c'è una piccola illuminazione come ci deve essere sempre alla fine di un aico c'è scritto ed è così bosco di faggi ogni giorno tra i rami sempre più cielo grazie così lascia la poesia vediamo più cielo grazie grazie mille nel frattempo il turismo della clemenza è già molto piaciuto va già diventando un hashtag di tendenza franco quindi usciamo dal lockdown con il turismo con il turismo della clemenza e poi dice librerie patimoni dell'umanità allora in attesa che le librerie diventano patimoni dell'umanità noi ci accontenteremmo che sopravvivessero ecco ho fatto un doppio salto mortale congiuntivi e condizionali ci accontenteremmo che sopravvivessero e in questi anni difficili però insomma Luigi allora complimenti per questa festa la tua decisione di aprire una sezione poetica secondo me non avrà mai l'approvazione della Bocconi non sarà mai una strategia commerciale vincente te lo devo dire con dolore però sembra sia stata una buona idea il microfono Luigi non ti sentiamo il microfono è un'idea che mi ha toccato l'anima perché anche io in questo anno ancora più come libraio di viaggi sono stato particolarmente frustrato e avevo bisogno di un qualcosa che mi così che mi piacesse internamente e se questo ha portato a una festa come questa beh che dire viva la poesia e viva tutti voi chiuderei poi condividendo questa giornata con la libria del viaggiatore di Roma di Via del Pellegrino di Bruno Bostin dove ho incontrato appunto Giuseppe tanti anni fa Bruno non c'è più però avrebbe compiuto trent'anni la sua libreria proprio nel duemilaventuno quindi mi piace che sia anche sua questa giornata e saluto anche gli altri piccoli eroi siamo meno di dieci in particolare appunto Martina a Firenze Nicolo a Pisa Gian Domenico a Padova e Marco a Udine quindi grazie veramente ecco non so dove andremo però se andare e resistere porta giornate come queste mi avete riempito l'anima grazie di cuore allora grazie a tutti grazie a te Luigi grazie a Francesco a Giuseppe a Franco e magari mi verrebbe da dire ho avuto il senso di un'ora passata veramente di corsa chissà che magari che non ci sia occasione anche di un'altra conversazione per riprendere questo filo a me piacerebbe veramente molto e da questo punto di vista il morbo è propizio perché sembra abbastanza intenzionato a farci stare tra le nostre letture preferite che per me sono anche quelle degli autori di oggi buona giornata a tutti e vi saluto anche a tutte le persone tantissime persone che hanno seguito ormai i commenti e la chat è quasi infinita un saluto e un abbraccio davvero a tutti loro grazie mille ciao 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 ciao